Le aziende al passo con i tempi sono quelle più attraenti per i lavoratori? Sono quelle imprese che sono aggiornate e sono evolute nel tempo, quelle imprese che offrono ai lavoratori possibilità di una formazione continua, la possibilità di gestire il proprio lavoro, la possibilità a volte di interrompere dando seguito a un periodo di telelavoro nel caso di ragazze madri oppure nel caso di donne in attesa di prole oppure di rientro nel mondo del lavoro dopo un periodo di maternità. Evidentemente sono quelle aziende che hanno una flessibilità mentale e gestionale delle risorse umane adeguate ai tempi.